3 frullati ricchi di magnesio per prendersi cura della salute. Grazie a questi frullati ricchi di magnesio, integrerete questo minerale nelle vostre diete in modo semplice, una carenza dello stesso potrebbe causare gravi problemi di salute. I frullati ricchi di magnesio sono un ottimo modo per sopperire al fabbisogno di questo minerale. In questo momento, per esempio, potreste presentare scarsi livelli di magnesio senza neppure saperlo. Non dobbiamo dimenticare che il magnesio è uno dei componenti che costituiscono la struttura delle nostre ossa, dei muscoli, del sangue e della maggior parte dei tessuti del corpo. Ne abbiamo bisogno per produrre energia e per la sintesi di numerose proteine e grassi. Secondo uno studio condotto dall'Università dell'Oregon, USA, la carenza di magnesio provoca una maggiore propensione a soffrire di problemi come l'ipertensione, il diabete e alcune malattie coronarie. Vale la pena tener conto di questo dato. Non dobbiamo ossessionarci con quest'idea, ma mantenere un'alimentazione bilanciata e priva di carenze nutritive. In questo articolo, allo scopo di soddisfare le necessità di magnesio del nostro organismo, vi proponiamo una soluzione molto semplice. Cosa ne dite di preparare durante la settimana uno di questi frullati? Frullati ricchi di magnesio da includere nella propria dieta dopo aver assunto per 7 o 10 giorni questi frullati ricchi di magnesio, noterete la differenza. Ebbene, ricordate che, oltre ad assumere tutti i giorni queste bevande naturali, è necessario che vi prendiate cura della vostra alimentazione. In linea generale, tutte le verdura foglia verde, così come i semi di lino e le alghe, sono ricche fonti di magnesio e clorofilla. Questi due nutrienti ci aiuteranno a sentirci meglio. Ecco i cambiamenti che noterete. Notevole riduzione della stanchezza graduale scomparsa di emicrania e mal di testa Riduzione degli episodi di stitichezza Riduzione del dolore osseo, articolare e muscolare Unghie e capelli più forti Riduzione dei livelli di zuccheri nel sangue E di seguito vi invitiamo a prendere nota di questi deliziosi frullati ricchi di magnesio. 1. Frullato di banana, cioccolato e sciroppo d'acero Questo frullato è, senza dubbi, una bevanda energetica, che potete assumere una volta alla settimana. Ciò nonostante, non preoccupatevi perché non è eccessivamente calorico. Il cioccolato che utilizzeremo per questa ricetta sarà fondente, privo di zuccheri. Forse vi sorprenderà sapere che 100 gr di cioccolato fondente apportano fino all'80% del fabbisogno medio raccomandato di magnesio. Inoltre, abbiamo preferito optare per lo sciroppo d'acero e non per il miele poiché il primo contiene maggiori quantità di questo minerale. Dal canto suo, la banana è uno dei frutti più ricchi di magnesio. Non perdetevi questo spettacolare frullato, perché il mix dei tre ingredienti vi apporterà buoni livelli di magnesio. Ingredienti 1 banana 1 cucchiaio di cacao amaro in polvere, 10 gr 1 cucchiaio di sciroppo d'acero, 20 gr 1 bicchiere di latte di mandorle, 200 ml Preparazione La preparazione di questo frullato è semplice. Non dovete fare altro che pelare la banana, tagliarla in tre pezzi e metterla nel frullatore, insieme al latte di mandorle, ricco di magnesio, lo sciroppo d'acero e il cacao amaro in polvere. Frullate per qualche secondo e poi servitelo. Alla salute! 2. Frullato di spinaci, avocado e fragole Questo frullato ricco di magnesio sarà il vostro migliore alleato per iniziare la giornata al massimo. È energetico, ricco di antiossidanti, fibre e molteplici nutrienti. L'avocado apporta fino al 15% del fabbisogno giornaliero di magnesio. Se aggiungete a questo frullato anche gli spinaci e le fragole, incrementerete ulteriormente questa quantità. Ecco i passaggi da seguire per preparare questa deliziosa bevanda naturale. Ingredienti 1 barra 2 avocado 8 fragole 1 bicchiere di spinaci, 30 gr, 1 bicchiere d'acqua, 200 ml, 1 cucchiaio di miele, 25 gr. Preparazione La prima cosa da fare sarà lavare bene gli ingredienti, soprattutto gli spinaci, che di solito assorbono facilmente i pesticidi. Una volta pronti, metteteli nel frullatore, insieme alle fragole e a metà avocado. Aggiungete l'acqua e il miele, e frullate il tutto fino ad ottenere una bevanda omogenea. Godetevela ogni mattina, è molto sana. 3. Frullato di fichi e latte di mandorle I fichi, oltre ad essere incredibilmente ricchi di calcio, contengono elevate quantità di magnesio. Ci aiutano anche a combattere l'osteoporosi, sono deliziosi e non tanto calorici come si crede. Uniteli ad una bevanda ricca di magnesio, il latte di mandorle. Ecco di seguito le istruzioni per preparare questo meraviglioso frullato ricco di magnesio. Ingredienti 5 fichi maturi 1-2 cucchiaio di semi di sesamo, 2 gr, 1 bicchiere di latte di mandorle, 200 ml, 1-2 di cannella in polvere, 2 gr. Per guarnire, preparazione pelate e fichi e metteteli nel frullatore, insieme al latte di mandorle e ai semi di sesamo. Frullate il tutto per qualche secondo. Servite la bevanda e spolverizzatela con un po' di cannella.